Di sicuro ai tempi di Gesù esistevano i gossip e quando Gesù è iniziato a predicare tutta la gente si chiedeva chi era quell'uomo Stranger per il rompere di Gesù è iniziato a predicare tutta Vede sicuro ai tempi di Gesù è iniziato a predicare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti